Ciao a tutti, oggi vediamo la prima maglia del Brasile per i prossimi mondiali, per i mondiali in Qatar del 2022, in edizione FAN. La maglia da calcio Nike Brasile 2022 World Cup abbandona il classico giallo per un giallo brillante, ufficialmente Dynamic Yellow. In termini design, la maglia home dei mondiali del Brasile 2022 presenta un piccolo colletto tradizionale colorato di verde e decorato con una striscia blu. Un sottile motivo a jaguaro impresso copre la parte anteriore, posteriore e le maniche, collegando il design a quello della maglia da trasferta della Coppa del Mondo del Brasile 2022. Trovate la recensione qui in alto. I colori della maglia ricordano la maglia vincitrice della Coppa del Mondo 2002. Può essere vista come un tributo per quello che sarà il ventesimo anniversario. Pantaloncini blu e calzetoni bianchi completano la divisa. La maglia del Brasile, a mio avviso, è un must che bisogna avere. Avevo già visto la versione player che trovate qui sopra, ho deciso di rivedere, di vedere anche la versione fan per notare le differenze. La maglia è fatta molto bene e a me piace moltissimo. Nella mia classifica questa prende 4 stelle, un voto un po' più basso della versione player perché secondo me le differenze un po' si notano. Comunque la maglia è bellissima, con un'ottima qualità, con dei colori vivaci e al costo che vedete qui sopra veramente un affare da non farsi sfuggire. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia, e tra l'altro potete trovare anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete poi utilizzare sul sito. Ora vi lascio alla parte finale in cui vedrete la vestibilità. Nel frattempo spero che possiate regalarci un like e di iscrivervi al canale per essere aggiornati su prossime recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. Ciao! 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 Grazie a tutti.